Un riconoscimento significativo quello che è stato attribuito a Sperone, il comune che lungo la direttrice della Via Reggia, l'attuale strada statale della 7bis, rappresenta l'interfaccia tra la provincia di Avellino e l'area della città metropolitana di Napoli, con l'inserimento nell'elenco dei paesi virtuosi per la sostenibilità ambientale. Un riconoscimento che arriva dall'Associazione Nazionale I Paesi Più Sostenibili d'Italia, nell'ambito della classificazione dei piccoli comuni. Per il territorio della Porta dell'Irpinia si tratta del simbolico approdo ad un cammino in atto da anni, con cui si connota l'azione amministrativa dell'Ente di Piazza Luigi Lauro, a cui concorrono le dinamiche operative con le loro specificità le associazioni di volontariato civico. Ed è il percorso che va dall'efficace e incisiva programmazione e gestione dei servizi di igiene urbana, con gli ottimali standard raggiunti nella pratica della differenziata, all'efficienza energetica dell'intero patrimonio dell'edilizia pubblica, inclusa l'illuminazione pubblica, con il funzionale ed economico sistema LED nel centro abitato e lungo la strada statale della 7 bis. E senza tralasciare la cura degli spazi di verde pubblico e del super frequentato percorso podistico, sull'asse Sperone Baiano, oltre che l'osservanza delle misure del protocollo di intesa per le attività di potenziamento della tutela ambientale del territorio, sottoscritto 5 anni fa con la SMA, società in house della regione Campania e l'ente di Piazza Lauro. Il riconoscimento di paese sostenibile, afferma Marco Santalaia, sindaco di Sperone, non costituisce un punto d'arrivo, bensì la spinta verso altri traguardi migliori e migliorativi per elevare e migliorare la qualità del vivere sociale delle famiglie nella comunità cittadina. Idee chiare per una volontà politica ed amministrativa parimente chiara nell'azione, dal momento che il riferimento dell'ente di Piazza Lauro è l'obiettivo 11 dell'Agenda 30, è l'obiettivo della realizzazione di città e comunità sostenibili ed inclusive nei ritmi di vita, a garanzia della tutela del pianeta Terra. Nel suo piccolo Sperone guarda queste prospettive. E nella decorsa estate si ricorderà il civico consesso all'unanimità e con un interessante dibattito aderito al programma di iniziative di Fridays for Future, il movimento globale fondato da Greta Thunberg per il contrasto e il contenimento dell'emergenza indotta dai pericolosi fenomeni del cambiamento climatico.